...ciugacapelli, chi fa bene i capelli? Beh, lui si crede Rambo! Rambo? È una polce! Lui è Tango, la potenza della legge. L'altro è Cash, la forza della giustizia. Mi conosci, eh? Sì, sei il secondo poliziotto di Los Angeles. Strano, ho sentito dire lo stesso di te. Quando lavorano insieme... Tango e Cash, Cash e Tango. ...mi mandano fuori di me quei due poliziotti. Non c'è tempo per annoiarsi. Ma da chi hai imparato a guidare? È Stevie Wonder! Kurt Russell, Sylvester Stallone, Tango e Cash. Domani alle 21.05 su Rete4. Gli uso Mediolanum perché vi dà un senso di libertà assoluta. Ecco, io ho il conto Reflex. Per il fatto che ho il telefonino, c'ho la banca in tasca. Si fa quasi tutto da casa. Quindi il tempo si risparmia, ti affini. La Family Bank viene a casa tua e ti spiega come se fossimo a scuola. Elementari, come un cerchio. È facile da disegnare e la banca Mediolanum è facile da utilizzare. Sentito? Questa è Mediolanum. La banca circolare. Banca Mediolanum. Costruite intorno a te. Freedom! Più grande la sfida, più hai bisogno di Duracell. Le normali pile zinco carbone sono sfinite. Ma Duracell resiste. Quando serve una lunga durata, Duracell dura fino a quattro volte di più. E con ogni confezione Duracell, in regalo, 30 stampe fotografiche. Per Mentadent, la bocca è uno strumento unico e straordinario. Ecco perché da 30 anni, Mentadent si impegna a darle sempre di più. Mentadent. Da 30 anni, missione sorrisi migliori. Kinder Happy Ippo presenta Crema alla nocciola e tanto latte in un biscotto di vape. È la piccola ricarica di Kinder Happy Ippo. Alla nocciola e al cacao. Oggi l'efficacia antizzanzare del fiore di Piretro la trovi qui. Nelle nuove piastrine Pygon Protector. Le uniche con insetticida di origine naturale. Dalla linea Pygon Protector. Che disastro, i colori hanno stinto. Che disastro, maledetto calcare. Due problemi, una soluzione unica. Omino bianco salvatutto, colori e lavatrice. Lavi bianchi e colorati insieme. E salvatutto. Uno, cattura i colori dispersi. Due, protegge la lavatrice dal calcare. E i disastri finiscono sul foglio. Nuovo omino bianco salvatutto. Colori e lavatrice. Io amo la luce. E per il mio colore mi fido del numero uno. Nuovo Elvive Color Vive de L'Oreal. Il primo con sistema riflettore di luce e filtro UV anti-sbiadimento. Che nutre i capelli e riflette la luce. Il colore è il 70% più brillante. E resta luminoso, shampoo dopo shampoo. Elvive Color Vive de L'Oreal Paris. Nuovo sistema riflettore di luce. Voi valete. Un prezzo così piccolo non si trova facilmente. Nuova Matiz a soli 6.950 euro. La 5 porte più economica del mercato. Puoi averla con minerate mensili. E puoi sceglierla anche con impianto GPL gratuito. Chevrolet. Vuoi vedere una cosa bellissima? Il mio nuovo Visioponino 3. Eh, ma chissà parlare quanto ti costo. Gargamella con Super 5. Costa solo 5 centesimi al minuto. Con la nuova ricaricabile Super 5. Parli con tutti a 5 centesimi al minuto. E senza scatto alla risposta. Tu cosa fai per me? Eh, ma io per te... Guarda. Giustamente. Tanto neanche mi piacevi. Befano. Meglio cambiare, ne? Sì. I teneroni di casa Modena con buon prosciutto cotto. Mmm. Oh. I teneroni di casa Modena. C'è sempre più gusto. Da tempo, Vape Foundation studia nel mondo come combattere gli insetti nocivi. Ecco perché Vape offre una protezione sicura e completa anche contro la zanzara tigre. Per 20 notti e 20 giorni. Vape è protezione amica. I miei capelli? Neanche uno bianco. Né qui, né qui, né qui. Da quando uso Excellence Creme de L'Oreal. Ho un colore ricco e luminoso e zero capelli bianchi. Prima il siero prepara, poi la crema copre ogni capello. e il trattamento prolunga la protezione. Excellence Creme, solo da L'Oreal Paris. Perché noi valiamo. È nato Pronto Multisuperficie. Dal legno al vetro, un solo prodotto e tutto risplende. Il bello di Pronto è un detergente multisuperficie delicato. Oh! Basta con la solita vecchia vita di campagna. È arrivato il momento per un mondo nuovo. Ma cosa vuoi? Per me ti sono venuto a cercare lavoro. Vai, 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 vai. Per una vita più moderna. Angolo cattura. Angolo intimo. Angolo doccia con relativo spogliatoio. Renato Pozzetto è il ragazzo di campagna. Mercoledì alle 21 e 5 su Rete4. C'è un campus creato da Università Yulman Mediaset dove grandi aziende coltivano talenti. Campus Multimedia Informazione. sapere e impresa insieme con il Master in Management Multimediale per i manager della comunicazione di domani www.campusmultimedia.net Coltiviamo talenti Contessa sono molto onorato di accogliervi nella mia semplice casa